Siamo chiesto la soluzione del fatto non sussiste, per quanto riguarda la ricettazione abbiamo chiesto la soluzione perché il fatto non sussiste, e per quanto riguarda l'abuso d'ufficio, anche qui non sussiste, e questo è stato proprio escluso dalla perizia, non c'è stata nessuna abilazione, diciamo, dell'obbligazione proprio dell'infermiera. Per gli altri 9 casi? Per gli altri 9 casi? Sì, ho detto, per gli altri, per i fiaschi, il fatto non sussiste proprio perché è stato escluso, e i fiaschi dalla perizia del GIP, perché è stato escluso, perché i fiaschi si è stati, e per quanto riguarda gli altri, non lo ha connesso lei, perché risulta dalle istruzioni che abbiamo fatto anche stamattina, che lei non c'era quando nei range, che sono stati individuati, in gran parte, anche con me. Solo un'ultima domanda, signora, in un passaggio della sua ringa, è stato escluso, anche con me.